In collaborazione con Babylon Caffè, spiannata Castelletto, Genova. Rosticeria Castelletto, spiannata Castelletto a Genova. Bentornati, vediamo subito la clip sulla Sampdoria. Al Ferraris per la 31esima giornata è andata in scena Sampdoria-Fiorentina con un risultato 0-0 che accontenta tutte e due le formazioni che hanno prodotto un gioco spettacolare per 95 minuti. Mialovic schiera a Sampdoria con il 4-3-3 dove nella fascia sinistra a posto di Regini troviamo Gaetano Berardi dopo un anno di natività, autore di una bella prestazione. In attacco, Maxi Lopez sostituisce Okaka. Nota di cronaca è stato espulso Mialovic per proteste verso il quarto uomo e si è beccato due giornate di squalifica per i viola. Sulla traversa colpita da Vargas, il giocatore stesso, adesso si ritrova infortunato per un paio di settimane. Alla fine, una giornata calda e un prato scivoloso che ha creato qualche problema ai giocatori non ha impedito di vedere uno grande spettacolo sul campo e il risultato di 0-0 è sicuramente un risultato più giusto. Massimo, Sinisa e il tocco di Remida. Chiunque venga impiegato in campo fa bene. Soltanto fortuna? No, assolutamente no. Mialovic da quando è arrivato alla Sampdoria ha veramente trasformato questa squadra. È veramente un allenatore che sa dare una carica, ma dopo tutto l'avevamo già visto sulle altre panchine qua in Italia. aveva fatto benissimo. Chiaro che poi il lavoro da lui costruito è stato portato avanti da altri tecnici e sempre con ulteriori miglioramenti. Mialovic riesce a trasmettere quella grinta e quella cattiveria in tutti pur mettendo alcuni giocatori fuori ruolo come pochi, credo. E d'altronde era un trascinatore, un leader anche sul campo. L'ha sempre dimostrato. E la Sampdoria ha solo tratto il giovamento dagli insegnamenti che questo tecnico sta dando dalla panchina. Ogni giocatore proprio viene esplonato a dare di più, a dare il massimo fino al 95esimo. I giocatori ci credono e da quando è arrivato lui comunque sono arrivati punti, vittorie. La squadra è uscita dalla situazione critica di classifica. E credo che da qui a fine stagione possa sicuramente ancora portare a casa parecchi punti e soprattutto belle prestazioni perché ricordiamoci che comunque la partita di domenica contro la Fiorentina è stata una partita bellissima con emozioni da ambo le parti contro una signora squadra perché la squadra di Montella è indubbiamente una squadra di valore magari con qualche problema adesso di ossigeno da parte di molti giocatori anche perché giocano sempre gli stessi. Però la Sampdoria ha dimostrato contro la Fiorentina di potersela giocare ad armi pari anzi ha avuto delle ottime occasioni per poterla anche vincere. È vero che poi dall'altra parte la Fiorentina è stata mangiata qualche gol abbastanza clamorosa comunque abbiamo visto dove ha i problemi maggiori la Sampdoria che poi è la fascia sinistra comunque anche un Berardi della situazione è riuscito a fare la sua ottima figura e forse mancava quello che in questo momento è indubbiamente quello che dà maggiori garanzie cioè a Regini. Berardi però è chiaro che non gli deve chiedere di spingere più di tanto perché non ne ha le qualità, la forza deve svolgere il suo compitino però direi che all'interno di questa squadra tutti hanno il loro compitino da fare e tutti lo fanno bene ed è quello che vuole Mijalovic in più ci aggiunge sicuramente e riesce a trasmettere un qualcosa di suo da allenatore. Ecco, vedevo che annuivi molto, sei d'accordo con Massimo? Assolutamente, assolutamente. Mijalovic intanto lo ritengo un grande allenatore posso dire tranquillamente che senza non togliere a Montella che fra l'altro è un allenatore che si è diplomato in Liguria quindi fa piacere poterlo dire però a Firenze, Curva Fiesole, tanti amici rimpiangono Mijalovic perché dicono che quando c'era Mijalovic a Firenze non c'erano i giocatori che avevano a Montella eppure lui ha fatto bene. Ha un grande rescenatore, ha un grande comunicatore anche se non sembra perché la comunicazione c'è quella esteriore-esterna, quella che si dà nei media quando si fanno le interviste ma la grande comunicazione è quella che conta è quella dello spogliatoio e uno dentro lo spogliatoio penso che comunichi molto, molto, molto bene in maniera molto chiara e diretta e trasmetta molto ecco la sua comunicazione è molto efficace con i giocatori ed è quella che serve quando succede che poi ti chiude nello spogliatoio con i giocatori facciamo tutti a tutti i livelli rimani da solo ci si guarda in faccia e ci si dice quello che si pensa e questa comunicazione con noi lui l'ha efficacissima è un grande motivatore è un grande intenditore fa rendere moltissimi i giocatori guarda un po' il cambiamento bisogna dargliene atto senza volere così sparlare di chi c'era prima che è un professionista serissimo che io conosco Deglio Rossi ma assolutamente stessi giocatori cambiato completamente ruoli giusti motivazioni giuste i giocatori vogliono essere stimolati vogliono essere stuzzicati sollecitati vogliono essere si mettono volentieri in gioco e lui da sempre ripeto l'ho detto prima a me Sandro come gioco ora piace perché va in campo e gioca poi perde vince ma ha fatto che sono più le volte che perde più le volte che vince più le volte che perde a me piacerebbe mi spiace dirlo da genuano vedere il genuano giocare in queste ultime partite come sta giocando attualmente la Sampdoria la Sampdoria gioca tutte le partite per fare risultati vince perde ecco a me piace così una squadra le partite così andate a giocare tanto per giocare non mi piacciono mi annoiano anche come spettatori chiudi la televisione oppure ti alzi e te ne vai dallo stadio e cosa te ne fai di vedere una squadra che passivamente fa la partitina per arrivare al novantesimo a me non piace così quindi ripeto Mialvic è stato sicuramente il miglior acquisto della Sampdoria quest'anno penso che la società abbia già preso i giusti come si dice accorgimenti per fare un progetto perché è un allenatore che ha molta personalità poi era stato anche un grande giocatore un grandissimo giocatore l'ho seguito tanti anni la giocatore la Roma la Lazio la squadra che ha giocato e attualmente ha ancora il record delle punizioni in Italia c'è Pillo che lo sta ansidiando ma a me piace è molto sanguigno e poi le vedi la squadra e basta che la partita cosa con Livorno 2-0-4-2 ecco lo spogliato cosa è successo sicuro assolutamente volevo sentire cosa ne pensava anche Massimiliano Massimiliano c'è chi parla soltanto di fortuna ma può davvero essere soltanto fortuna no credo sia anche la capacità di aver creato un gruppo di saper chiamare i giocatori al momento giusto e di responsabilizzarli di farli sentire in qualche modo titolari credo che il caso di domenica scorsa liberati sia forse proclatante perché è stato un giocatore tutto l'anno anche con Melovic completamente in margine la rosa che doveva partire ricordiamo c'erano per modi la vigilia il campionato dopo di chiedegli Rossi lo fece arrestare per schierarlo titolare tra l'altro con scarsi risultati contro la Juventus da prima il campionato e poi dopo quella partita lì giocò solo di nuovo a Firenze sempre con Rossi con anche gli scarsi risultati due scampoletti in partita ma proprio pochi minuti e poi per esempio ricordo che solo la prima ultima partita non era andato neanche in pacchina con una pacchina di 23 uomini quindi sembrava completamente messo da parte in realtà ha saputo giocarsi benissimo la sua chance e credo che domenica abbia giocato la migliore partita da quando Genova compreso l'anno della Serie B perché lui arrivò qua per la Serie B ricordiamoci che non era neanche titolare in Serie B detto questo sì è chiaramente merito di Mijajlovic si ironizzando si dice che come Reminida il santo che ritornavi dai ciechi però questi ovviamente sono eccessi però certamente certamente è uno che lavora molto quanto meno sulle teste dei giocatori la chiave assoluta dell'ottimo aumento a Samp e dei grandi successi di Mijajlovic è ognuno a suo posto penso che quanto rarissimamente Mijajlovic ha in qualche modo deviato da questo suo pensiero mi sono uscite le due partite per tutti della Samp ecco Massimiliano adesso la Samp ha tutto il tempo di programmare il suo futuro tu cosa cambieresti della rosa attuale? Dunque a centro campo punterei comunque avere almeno un buon cambio e soprattutto magari un regista tradizionale che forse ha un ruolo che in questo momento sembra superfluo per la Samp perché a tratti a Papalombo a tratti a Rocaclistici però magari uno che dà le palle che esista le palle un metronomo di centro campo potrebbe servire poi in difesa secondo me siccome è presumibile che qualcuno possa anche partire per esempio è credibile che Mustafi possa avere richieste comunque andrei a rinforzare un po' il reparto difensivo dove a me Fornasier non sembra ancora un giocatore pronto per giocare una serie A da titolare e poi forse punterei su una terza punta oltre a Okaga Maximo perché sono buone punte ma avere anche un cambio di ruolo sarebbe buono l'ultima cosa visto che di Orillo per tanti motivi non viene considerato degno o pronto o abbastanza freddo per giocare a Genova a titolare e quindi credo che il disegno sia quello di farlo giocare altrove a quel punto certamente ecco forse prima di tutto il resto cercherei comunque un portiere nonostante Miajelovic nonostante abbia sempre di peso e nonostante per esempio la storia è partita contro il Verona io credo che il portiere resti in un punto debole di questa squadra Massimo tu cosa modificheresti la rosa della Sampdoria in previsione futura? in previsione futura intanto bisognerebbe capire se Miajelovic farà ancora parte della Sampdoria non sarà facile trattenerlo perché sicuramente è vero che ha piantato lì la serbia dall'oggi al domani per venire alla Sampdoria per il cuore per tante motivazioni il fatto di entrare in un campionato italiano però secondo me per Sinisa la Sampdoria non può essere altro che un trampolino di lancio verso una grande squadra e mi viene da pensare alla situazione attuale di un Inter che comunque sta stentando che continua a perdere punti un Mazzardi che è sempre in bilico e Miajelovic sicuramente potrebbe essere uno degli obiettivi futuri di una squadra come l'Inter ce ne possono essere ancora altre perché lui il mercato dovrebbe averlo è chiaro che poi lui vorrà delle garanzie per capire dove può arrivare e quali giocatori può avere perché senza determinate garanzie è più facile perdere Miajelovic che non trattenerlo e lui deve essere sempre sicuramente solleticato ad avere un qualcosa in più e potersi migliorare Ecco Ugo parlando di cambiamenti Maxi Lopez ha un diritto di riscatto fissato a un milione e mezzo secondo te è un giocatore da riscattare? Secondo me sì non l'avrei neanche lasciato andare via quando l'ho lasciato andare via perché penso che è un giocatore che può serire molto la Sampdoria ora non stiamo a guardare gli episodi quest'anno gli infortuni la sua situazione personale insomma ci sono tante motivazioni il giocatore c'è e me lo tengo secondo me io oserei che poi non è un osare lancierei Fiorillo ecco lo sciolo in casa un portiere che secondo me vale ora non perché so che i tifosi sandoriani gettono tutti la croce ad Ossia da Costa da Costa è un portiere secondo me di categoria è un portiere normale per virgolette certamente forse ma ripeto hai in casa Fiorillo io faccio sempre il parallelo con Perin hai la stessa situazione più o meno hai un ragazzo giovane che secondo me va là perché qui in Italia abbiamo sempre un pochino la freniamo un po' sempre sul lanciare i giovani mentre quando in Germania 17-16 anni sono buoni vanno in prima squadra in Spagna anche qui invece aspettiamo deve farsi le ossa io invece tanto sarebbe già un ruolo importante no? non ha neanche un rischio Fiorillo l'ha già dimostrato chiaro che deve giocare un po' di più ripeto l'ho detto precedentemente io poi mi ha visto quello che crede ci mancherebbe altro ma già in queste ultime partite comincerei già a vicendare con il portiere tanto poi sei altri ruoli la squadra bisogna vedere anche gli obiettivi con la società se vogliamo cambiare tranquillo il centro classifica questa qua tanti ritocchi non ha bisogno perché con questo allenatore ha dimostrato tranquillamente che si fa un bel centro classifica e oserei dire con quello che manca ancora alla fine del campionato che se mantengono questo trend potrebbero anche avere qualche sorpresina e poi a livello di perché se non continuano a perdere vinci in casa pareggi fuori è una bella media per arrivare poi in fondo magari fare qualche contro ma tu guarda forse sono capitato in una certa zona ecco tanto per capirci infatti c'è qualcuno che appunto inserisce proprio la Sampdoria all'ultimo posto diciamo però tra quelle che possono giocarsi ancora l'Europa League sai quando vince pareggi vinci per perdere ogni tanto ma sono più le volte che vince pareggi poi tre punti rispetto ai due punti di una volta che dicevano poco fra i due adesso i tre punti ti tirano fai un bel balzo in avanti per cui ti dico chi lo sa però sono d'accordo con Massimo che Mielby sicuramente avrà tante richieste e merita probabilmente a condurre rispetto alla Sandro una piazza e vorrà lui stesso poi andarsi a esibire su qualche parco scenico diciamo fra virgolette più prestigioso vedi San Siro vedi giusto l'Inter potrebbe essere un cliente così ora vediamo poi insomma ci sono tante cose da capire da vedere però può essere così per la Sandro adesso sicuramente quest'anno il suo campionato l'ha già vinto ecco ecco Massimo tu non lo trovi forse un po' esagerato ancora poter pensare all'Europa League ma sicuramente è giusto che ci credano i tifosi e poi la realtà dice che ci sono troppe squadre davanti e attualmente Sandro e Geno sono ancora nella parte destra della classifica e capire non sono tantissimi punti con la politica dei tre punti però mancano solo sette partite e sette partite vuol dire che sette sei sette squadre devono veramente tirare il feno a mano è vero anche che ci sono dei scontri retti però è dura è dura o le vinci tutte o quasi prima parlavi di Mijajlovic che non si sa ancora se rimarrà o meno secondo te per rimanere chiederà delle gare ma sì sicuramente vorrà appunto come avevo già detto puntare in alto come diceva Ugo prima se hai questo allenatore e questa rosa hai visto che da quando è arrivato lui hai fatto un certo numero di punti è una squadra che può con un paio di ritocchi fare un piccolo saltino per giocarti veramente magari fino all'ultimo un'Europa League chiaro che poi devi vedere anche la concorrenza quanto si rinforza se invece Mijajlovic non ha determinate garanzie non so quanto la società possa e riesca a trattenerlo dei punti fermi però bisogna metterli cioè sicuramente poi bisogna vedere anche il famoso discorso tipo un gabbiadini dove torna dove va perché poi è comunque un giocatore di quelli importanti di nuovo nel suo ruolo dobbiamo per forza fermarci per l'ultimo stacco pubblicitario in collaborazione con Babylon Cafè spianata a Castelletto Genova rosticeria a Castelletto spianata a Castelletto a Genova spianata a Castelletto Grazie per la visione! In collaborazione con Babylon Caffè, spiannata a Castelletto, Genova. Rosticeria a Castelletto, spiannata a Castelletto a Genova. Bentornati con noi, parliamo adesso un pochino con i nostri ospiti. Ugo, vuoi parlarci della rappresentativa Ligure Femminile? Sì, assolutamente. Siamo addirittura, non da riva, di partenza. Siamo per partire, 12 aprile si va a Lignano-Sabbia d'Oro, Torino delle Regioni. Come ho detto precedentemente, con il Presidente della Federazione abbiamo un progettino, che è di presentare un progetto, squadra verde, linea verde, squadra giovane, giovani interessanti. Vediamo, andiamo a misurarci con squadre più forti di noi, sulla carta, ma non è detto il Veneto, una corazzata, la campagna, la Toscana, sono due belle squadre. Però noi vogliamo vedere, perché è una rappresentativa per il futuro, impostata sul futuro. Tutti i giovanissimi, media 19 anni contro i 23 consentiti, quindi media bassissima. Grande motivazione, grande fame, fa virgolette, dovessi dare un termine proprio così un po' volgare, ma che rende l'idea di queste ragazze che sono attratte da questa nuova esperienza. Ragazze bravissime, non so fare nomi, ma perché antipatico in queste situazioni puoi fare nomi. Però la rigore è rappresentata degnamente, sicuramente avrò ragazze che mi daranno tutto sul campo, sicuramente al massimo, sono sicuro che saranno tutte sudate quando escono. Poi vediamo, c'è un po' l'esperienza che non è dalla nostra parte, ma questo non vuol dire, si può sopperire. La voglia c'è. Parlando di giovani talenti, possiamo parlare anche del talento nostrano, che è Francesca Durante che sta giocando il Mondiale. Assolutamente, anzi grazie di questa opportunità perché la sento un po' mia questa, anche se il merito dei suoi allenatori che ha avuto nelle varie squadre in cui ha militato. Perché Francesca Durante diciamo che l'ho scoperta io, è andata al Bissola quando aveva 12 anni e adesso è niente meno che il titolare della nazionale Ander 17 che sta disputando i campionati mondiali in Costa Rica che è arrivata in semifinale. Dico la verità, ho provato una certa emozione ieri sera quando ho visto la partita, una partita nazionale, vedere la Francesca con la maglia della nazionale mentre calciava da rimessa dal fondo. Dove ho venuto un pochino di vagone perché sono anche affezionato, conosco bene papà e mamma. Sono contento, per la Liguria è un bel segnale, anche la Liguria ha dato il suo contributo e siamo molto contenti. Francesca si è sempre ricordata di noi perché anche l'anno scorso a Chianciano alle fine nazionali era testimonial della nazionale con Cabrini, con altri, è venuta e si è ricordata di noi, ci ha chiamato in sala, ha detto il mio allenatore, i miei compagni, è stato un bel momento, un bel momento di sport e anche molto emozionante. Siamo un po' la nostra cocca diciamo, ce la guardiamo tutti e siamo molto contenti, francamente. E' soddisfatto, perché è una ragazza eccezionale, bravissima, una bella testa, è una ragazza molto volitiva, dotata tecnicamente, faccio una previsione così azzardo ma neanche troppo, è il futuro potere nazionale maggiore secondo me, femminile. Parlando sempre di sport invece tu sei il direttore di Seven Press, vogliamo parlare un pochino di Seven Press? Sì, dunque noi intanto in questi giorni compieremo gli anni, nel senso siamo nati nel 2004, quindi siamo andati online proprio nell'aprile 2004 per poi essere proprio a tempo pieno dal giugno di 2004, quindi comunque diciamo che soffriamo sulla candelina di 10 anni ed è sicuramente un bel primo traguardo che raggiungiamo, soprattutto per un sito che è nato a livello regionale prettamente sportivo e invece nell'arco degli anni ha subito una evoluzione e involuzione per varie ragioni anche di sponsor eccetera, che hanno portato a diventare un sito quasi nazionale, nel senso la maggior parte dei comunicati che ci arrivano arrivano da qualsiasi regione d'Italia, addirittura anche dall'estero e infatti alcuni testi che pubblichiamo di notizie sportive, in particolar modo in questo caso di motori, sono in lingua inglese o francese o addirittura croata, tanto per dire. I numeri ci danno ragione perché in questi anni abbiamo raggiunto addirittura cifre iperboliche, abbiamo avuto anche le nostre crisi ma fortunatamente abbiamo dei sponsor che ci sostengono e ci danno la possibilità sempre di continuare per una realtà che comunque ha un costo quasi zero, se non la fatica di chi ci lavora e chi collabora. Da lì, oltre che diciamo che dal punto di vista sportivo, abbiamo aggiunto delle altre notizie di carattere tipo eventi, notizie di spettacoli culturali, gossip, insomma c'è un po' di tutto. Quindi chi ha voglia di venire a trovarci e visitarci sicuramente non ne rimarrà deluso e magari ci tornerà altre volte oppure sarà il suo appuntamento fisso quotidiano. Comunque il sito è 7press.com e vi aspettiamo sempre più numerosi oltre a tutti quelli che già venite quotidianamente. Ecco Massimo, non soltanto web però, perché stai partendo con una nuova avventura con la carta stampa? Sì, stiamo partendo con una nuova avventura, sono stato chiamato da un avventore per un nuovo periodico che in realtà nuovo non è, nel senso che ha interrotto solo le pubblicazioni per tre mesi, adesso si chiama Valpolcevera e tratteremo tutti gli eventi della zona. Quindi mi fa onore far parte di questo progetto e ci tengo a precisare che in entrambi i progetti, sia 7press che Valpolcevera, comunque ci sei anche tu. Quindi mi sembra giusto sottolinearlo questo, quindi grazie anche a te che comunque ci conosciamo, ci lavoriamo bene assieme, quindi direi che anche parte del merito è sicuramente anche tuo per entrambe le testate. Io ti ringrazio e anzi colgo l'occasione per ringraziare te dell'opportunità che mi dai. Il tempo a nostra disposizione purtroppo è finito, salutiamo Massimiliano Lussana. Grazie, buona serata a tutti voi, alla prossima. Ugo Maggi. Ciao a tutti, grazie a avermi invitato. E Massimo Tagliato. Ciao a tutti e grazie a tutti. Con voi l'appuntamento e per la prossima settimana. In collaborazione con Babylon Caffè, spiannata Castelletto, Genova. Rosticeria Castelletto, spiannata Castelletto a Genova. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie per la visione!